Tutta l'armonia della natura rinascimentale pervade i raffinatissimi madrigali di Luca Marenzio, uno dei più grandi compositori del Rinascimento. In Zephyro torna, la natura si ridesta al placido vento primaverile e ci sembra quasi di vedere i fiori che sbocciano in quel vivace disegno di crome. A proposito, un grazie a tutti quelli che sono venuti al mio spettacolo su Vivaldi di qualche giorno fa. Il prossimo si terrà il 2 dicembre e sarà su Bach. Non mancate perché sarà epico. Trovate tutte le info sul sito del museo. Se volete scoprire di più sui madrigali di Marenzio, trovate un video completo su Musica Antica for Dummies.